Ciao amici, come state? Siamo qui oggi per raccontarvi la svolta drammatica nella storia di Sermin in Terra Amara. La nostra storia si evolve quando Sermin, dopo l'arrivo di sua figlia Betul in città, si unisce a coloro che sabotano gli Yaman. La situazione diventa ancora più complessa dopo la misteriosa scomparsa di Demir, quando Zuleyha improvvisamente si ritrova proprietaria sia della villa che dell'azienda e decide di affidare la gestione a Betul. Tuttavia, Betul è cieca dall'odio e dal risentimento, e cerca di sfruttare al massimo la sua nuova posizione per strappare tutto ciò che può Zuleyha. La fiducia tra Zuleyha e Betul si sgretola rapidamente, poiché Zuleyha inizia a sospettare dei tradimenti da parte di entrambe. Ciò porta a uno scontro intenso in cui entrambe le parti si combattono a vicenda, cercando di ottenere il controllo. Ma le sorprese non finiscono qui. Betul, desiderosa di vendicarsi degli Yaman, fa un'inaspettata alleanza con i grandi nemici della famiglia, complottando per prendere il controllo di tutto ciò che gli Yaman possiedono. La situazione si complica ulteriormente con l'arrivo di Kolak a Kukurova, un uomo ricco che cattura l'attenzione di Betul. Betul inizia a frequentare Kolak sperando di utilizzare la sua ricchezza per i suoi scopi. Tuttavia, il suo piano oscuro prende una svolta inaspettata quando cerca di uccidere Kolak durante la loro prima notte di nozze. Ma le cose non vanno come previsto, e Betul viene tradita. Kolak, deciso a vendicarsi di Betul, la rapisce. La situazione si fa sempre più tesa e intricata, con tradimenti, vendette e colpi di scena che tengono gli spettatori sulle spine. Non vediamo l'ora di scoprire come si svilupperà questa drammatica storia e cosa riserverà il futuro per i personaggi di Terra Amara. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità di questa avvincente sopopera. Sermin trascorre giorni di angoscia, tormentata dall'incertezza riguardo alla sorte di sua figlia, Betul. Nel frattempo, la notizia del rapimento di Betul raggiunge Zuleya, che, sorprendentemente, decide di fare un gesto di gentilezza. Zuleya entra nella casa di Kola che aiuta Betul a fuggire dalla sua prigionia. Tuttavia, nonostante il gesto di compassione, Betul non può fare a meno di provare risentimento nei confronti di Zuleya, che considera la sua nemica. Sermin cerca di convincere Betul a considerare un'alleanza con Zuleya, sperando che questa possa essere la loro unica possibilità di sopravvivenza. Ma Betul è così orgogliosa da rifiutare l'aiuto di chi la rinnega. Zuleya, cercando di porre fine a questa situazione complicata, offre loro la casa di Gaffur in cui vivere. Tuttavia, Betul si sente umiliata dalla prospettiva di non poter più risiedere nella lussuosa villa e decide di andarsene con i soldi che ha risparmiato. La dura realtà colpisce quando Betul e Sermin si rendono conto che Kolak ha preso tutto ciò che possedevano, lasciandoli senza risorse. La loro infelicità cresce e, costretti dalle circostanze, sono costretti a chiedere aiuto a Zuleya, ricevendo cibo e denaro da lei. Tuttavia, questa situazione mette sempre più a disagio Betul, che si sente indebitata e umiliata. Nel tentativo disperato di migliorare la loro condizione, Sermin compie un gesto estremo, entra nella villa e ruba la spilla di Leila. Tuttavia, il furto viene scoperto da Zuleya, che ormai ha raggiunto il limite della sua pazienza. Stanca dei continui tradimenti di entrambi, Zuleya prende una decisione drastica e li caccia via, lasciandoli senza una casa e senza risorse. La vita di Betul e Sermin diventa sempre più difficile e incerta, mentre si trovano costretti a confrontarsi con le conseguenze delle loro azioni passate. Cosa riserverà il futuro per questi personaggi e come affronteranno le sfide che li attendono? Continuate a seguirci per scoprire come si svilupperà questa avvincente storia nella sopopera Terra Amara. La determinazione vendicativa di Betul raggiunge livelli estremi quando decide di uccidere Zuleya. Elabora un piano intricato per mettere fine alle vite di Zuleya e Kolak contemporaneamente, credendo che ciò le permetterà di vendicarsi di Zuleya e di ereditare l'intera fortuna di Kolak, dato che sono sposati. Sermin si unisce a questo sinistro piano e si introduce nella casa di Kolak sotto il pretesto di prendere alcuni abiti per sua figlia, ma in realtà ruba la pistola di Kolak, con l'intenzione di usarla per incastrarlo nell'omicidio di Zuleya. Successivamente, Betul ordina a dei complici di rapire Kolak e di rubare la sua auto. Poi, utilizzando l'auto di Kolak, attira Zuleya in una trappola nella foresta. Nel frattempo, Chetín si trova nella villa per una visita e nota che c'è qualcosa di strano. Decide di seguire Zuleya nella foresta per assicurarsi che sia al sicuro. Una volta nella foresta, Betul tenta di eseguire il suo piano omicida, ma non riesce a colpire Zuleya al primo tentativo. Questo errore mette in allarme Chetín, che estrae la sua pistola e risponde al fuoco. Zuleya riesce a mettersi al riparo e Betul, insieme ai suoi complici, fugge dal luogo del crimine. La situazione diventa sempre più intricata e pericolosa, e Zuleya si trova ora coinvolta in un pericoloso gioco di vendetta e tradimenti. Cosa riserverà il futuro per Zuleya, Betul e Kolak e come affronteranno le conseguenze di questi eventi? Continuate a seguirci per scoprire come si svilupperà questa avvincente trama in terra amara. L'inseguimento di Betul e dei suoi complici da parte di Zuleya e Chetín si intensifica mentre si dirigono verso la foresta per confrontarsi con la vendicativa Betul. Quando Kolak riesce a liberarsi, si unisce a Zuleya e Chetín sulla strada e ascolta il racconto dei due sui loro loschi piani. Scoprono il piano di Betul per uccidere Zuleya e Kolak e decidono di collaborare per proteggersi reciprocamente. Tuttavia, la situazione prende una svolta inaspettata quando Kolak viene ucciso nel centro della città a causa di una disputa sulla sua terra. Betul e Sermin, ignare della sua falsa morte, iniziano a pianificare vendette e ristrutturazioni nella villa di Kolak, convinte di aver ereditato la sua fortuna. Attendono con ansia notizie dall'avvocato sulla loro presunta eredità. Ma il colpo di scena arriva quando l'avvocato rivela che Betul non ha mai sposato Kolak, svelando che i documenti matrimoniali erano falsi. Betul e Sermin rimangono sconvolte e si rendono conto che il loro piano è fallito miseramente. In un momento di rabbia e frustrazione, propongono di compiere azioni illegali per ottenere ciò che vogliono. A questo punto, Kolak fa la sua apparizione e si diverte a prendere in giro Betul e Sermin per la loro ingenuità. Rivela che la sua morte era una messa in scena e che aveva scoperto i loro loschi piani prima del matrimonio, motivo per cui aveva falsificato i documenti. Non essendo effettivamente sposati, Kolak li butta fuori di casa, lasciandoli nelle mani di Zuleia e dei suoi conoscenti che li attendono fuori, forse per affrontare le conseguenze delle loro azioni. La rivelazione di tutte le cattive azioni compiute da Kolak, Betul e Sermin scuote profondamente Zuleia e gli altri presenti. Betul e Sermin lasciano la villa, sentendosi completamente sconfitte e abbattute dalla loro disastrosa serie di piani falliti, che le ha portate a perdere tutto ciò che avevano. Per strada, Betul e Sermin cercano di elaborare un piano per sopravvivere nella loro nuova situazione precaria. Sermin ammette di aver rubato denaro e una pistola a Kolak prima di essere cacciata via. Usando quei soldi, si rifugiano in un hotel economico, ma la prospettiva di un futuro incerto e privo di risorse le preoccupa profondamente. Tuttavia, Betul ha altri piani in mente e decide di tornare alla villa per uccidere Zuleia, credendo che ormai non abbia più nulla da perdere. Quando cerca di sparare a Zuleia, Akan si mette in mezzo per proteggerla e finisce per essere ucciso da Betul. Spaventata dalle conseguenze del suo gesto, Betul fugge e si rifugia nel magazzino del suo ex fidanzato, Abdul Qadir, che si è dato alla fuga dalle autorità a causa dell'omicidio di Fekeli. La vita dei personaggi sembra essere sempre più intricata e complessa, con le azioni e le scelte passate che tornano a perseguitarli in modi imprevisti. Il destino di Betul e Sermin sembra essere sospeso su un filo sottile mentre si trovano in una situazione difficile e potenzialmente pericolosa. La fuga di Betul, Abdul Qadir e Kolak in Siria sembrava essere una via d'uscita dalla complicata situazione che si erano creati. Tuttavia, Betul tradisce i suoi complici, rivelando l'esistenza dei soldi nascosti. Vengono poi catturati da Vaep, ma Abdul Qadir, ancora innamorato di Betul, decide di prendere una decisione rischiosa e la libera, portandola con sé. Durante la loro fuga attraverso il confine, Betul tenta di comunicare con sua madre, Sermin, ma accidentalmente chiama Zuleya invece. Zuleya, desiderosa di ottenere giustizia per l'omicidio di Akan, decide di andare a cercare Betul per consegnarla alle autorità. Sermin, nel frattempo, è ansiosa di ricevere notizie dalla figlia e rimane sconvolta quando apprende dell'uccisione di Akan. La situazione è grave, ma Sermin si rifiuta di accettare che Betul sia un'assassina e cerca in ogni modo di difenderla. Inoltre, accusa pubblicamente Zuleya di aver pianificato l'omicidio di Akan per ottenere la sua ricchezza. La tensione e la drammaticità della situazione mettono a dura prova Sermin, che, a causa dello stress e della preoccupazione, sviene mentre si trova di fronte al municipio. La storia si fa sempre più intricata e carica di emozioni, con le vite dei personaggi che si intrecciano in modi sorprendenti. La vita di Sermin è drasticamente cambiata dopo la caduta dalla sua precedente posizione di ricchezza e potere. Dopo essere stata soccorsa da Lutfai, accetta un lavoro umile come addetta alle pulizie delle strade, un lavoro molto diverso da quello a cui era abituata. La sua decadenza e la sua nuova condizione l'hanno costretta a fare i conti con la realtà e ha dovuto imparare a sopportare le derisioni di coloro che l'hanno conosciuta quando era ricca e arrogante. Un giorno, mentre si trova a lavoro, nota una folla radunata davanti al tribunale e decide di avvicinarsi per scoprire cosa stia succedendo. Qui, scopre che Fikret e Zuleya stanno consegnando Abdul Kadir e Betul al procuratore per l'omicidio dei loro cari. Sermin è scioccata nel vedere Betul accusare Fuzon di averla tradita. Questo porta a un litigio tra Sermin e Fuzon, con entrambe che si accusano reciprocamente. Gli altri presenti intervengono per separarle. Durante il processo di Betul, Sermin implora di poter vedere sua figlia, ma alla fine Betul viene portata in prigione. La vita di Sermin è giunta a un punto di svolta drammatico e ora deve affrontare la realtà delle azioni di sua figlia e le conseguenze della sua stessa avidità e cattiveria passate. La sua visita in prigione segna un momento commovente e difficile per entrambe. La visita di Sermin a Betul in prigione è un momento commovente e doloroso per entrambe. Betul condivide con sua madre il difficile ambiente all'interno delle mura di detenzione, dove molte persone amano Zuleya e la proteggono. Nonostante tutto, Betul prende le distanze da sua madre, sottolineando che se c'è qualcuno da incolpare, è Fuzon per averla tradita quando cercava solo di comunicare con la madre. Sermin esprime il suo dolore per il fatto che non potranno mai più stare insieme, ma Betul riconosce di aver commesso molti errori, spinta dall'ambizione, e si pente di aver rovinato le loro vite. Questo momento di comprensione e pentimento è toccante ma amaro per entrambe. Mesi dopo, si svolge il processo di Betul, che viene condannata all'ergastolo. La sentenza è devastante per madre e figlia, e quando vengono separate, il dolore è palpabile. Durante l'ultimo episodio di Terra Amara verrà svelato che cosa succederà a Sermin. La donna, per più di dieci anni, continuerà ad essere la spazzina di Cucurova, e proprio mentre svolgerà il suo lavoro, troverà la morte per infarto.